Belotti non è convocabile, quindi non è un ragazzo, questa settimana ha provato parlando con la squadra avversaria in una partitina infrasettimanale, quindi con i ragazzi della primavera, abbiamo chiesto che in quei 20 minuti, in quarto d'ora che ha giocato 18 minuti, che ha fatto lui, di preservare, di osservare anzi massima attenzione nelle entrate, in quello che poteva essere dei duelli, dei contrasti, delle situazioni insomma pericolose, per non andare ovviamente a ricreare delle situazioni di svantaggio o problematiche ulteriori. Nel venerdì della scorsa settimana è stato fatto un accertamento diagnostico dove servivano altri 10 giorni di terapie e di quant'altro e quindi in questi 10 giorni scadono martedì, mercoledì prossima settimana e in questo senso verrà fatto poi martedì prossima settimana un ulteriore, ultimo speriamo accertamento dove eventualmente potrà iniziare a riallenarsi sempre in maniera graduale con la prima squadra. Io so benissimo che in queste situazioni scattano una compattezza anche ambientale perché vai a vedere ieri al campo hanno avuto in settimana oltre 500 tifosi che sono andati ad appoggiare la squadra, fra di loro ovviamente nel gruppo squadra si si compatta di più per superare certe difficoltà ma anche perché si vuole far vedere all'esterno che Bari come lo è una piazza appetibile per quello che può essere un eventuale acquirente che può presentarsi all'offerta. Quindi al di là di questo il Bari ha battuto il Pescara nell'ultima partita casalinga, ha fatto delle ottime partite, ha battuto altre squadre nonché anche noi all'andata e quindi è una squadra che si conosce bene, ci sono ragazzi giovani molto interessanti che giocano insieme da più anni e quindi ci sarà da fare una grande partita. C'è stato un percorso, un grande percorso di crescita sicuramente ma un grande percorso anche sul piano dei risultati perché poi quando passi dal dodicesimo posto quello che era, tredicesimo posto, arrivi primo, se ci avessero detto a cinque giornate del girone di ritorno che saremo stati a cinque punti barra sei perché in questo momento barra sei in virtù del fatto che col Cesena abbiamo uno sconto diretto in vantaggio quindi siamo cinque barra sei punti di vantaggio sulla terza in classifica, beh ci avremmo messo tutti una firma grande come una casa avremmo fatto i salti mortali all'indietro perché potesse essere una cosa vera. Ci stiamo riuscendo, sicuramente abbiamo la consapevolezza e questo è un dato molto positivo che qualche punticino in più per quello che abbiamo prodotto, per quello che questa squadra ha fatto sul campo potevamo avere in più ma che non è frutto di una mancanza di occasioni create, non è frutto di una mancanza che siamo venuti meno, anzi siamo molto cresciuti sul piano del palleggio, del possesso, della conoscenza dell'andare a braccare la porta avversaria con maggior uomini, maggior arrivo sugli esterni, maggiori conclusioni quindi abbiamo tutti questi dati in grande crescita, è chiaro che ci manca un po' più di concretezza che ovviamente questo campionato richiede.